Dobbiamo fare cuggire... del cavolo? Pilleria... Prova un gianetto... Appunto... In realtà non dice nulla... Vedo che c'è la chiave qua... Quindi forse loro intendevano comunque a farti fare questo giro... In teoria... Da dove si passa? Ah... Ah non è il salve... Buongiorno... 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 Oh aspetta... Eh... Che tiro che ha fatto... Ha fatto proprio un tiro professionale... Non ha ammazzato chi? Ah... Guarda... 3 da ammazzare... Permesso... Ok... Sì... Albert... Entri... 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 Cos'è sta qua? Cos'è sta qua? Ah... Che c'è deve poterle chiudere la porta? Volevo aperte... Hmm... No... ... Sì, sì. crepa vediamo se devo sfondare quello per caso lo farò esplodere dai forse mi spinge fuori momento di cristallo la stampa a questo troppo basso ok ok serve per farsi incontrare la metà via così ma buonanotte vale Occhio azzurro Occhio azzurro Proseguiamo In teoria ho visto tutto Ok finiamo nel Cosa intendi che mi serve per il percorso? L'occhio azzurro? Molto probabilmente Praticamente andiamo in una sala da pranzo Che tra l'altro è rossa Non so perché Non lo ricordo Perlomeno vediamo un attimo Perché era rossa? Comunque qua c'è gente Dobbiamo entrare nel cortile E salire Vabbè Spero di non rincontrare la stuola Come facciamo qua? In realtà no Vado in giro Ah non ci può uscire Perchè scatta così? Vi è chiuso Aspetta 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 Fino a un altro magari Questo rumore Aspetta aspetta Quanto pare comunque bisogna sparargli Perchè? Consiglio di tempo Ma si è in taccetta Più solida Va bene Tu chiudi Va No Non ti amo Una stronza Nessuno ti ama Neanche tua madre E tu a costruire No Anche si È qua Figurati dai Aspettiamo che venga qua Dov'è Ok, adesso è qua Allora, usiamo questo Questo va un po' più complicato Dov'è Ah, eh, quanto duri Ah, no, 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 no Vai Mettarla in centro è difficile Migliore, sì, certo, sarebbe che fosse proprio centrale Ma cosa facciamo Stiamo qua E qua Uno così carino Voglio mangiarlo Oh, no, 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 no Non voglio morir Sì Oh, eh, ho risolto un attimo C'è la munizione della pistola però Con il fucile Ancora non si fa Ok, niente Vediamo se c'è qualcosa da recuperare Adesso voglio fare una prova Non vorrei che fosse un problema di memoria Secondo me no Però proviamo Proviamo a vedere se questo aiuta Perché in realtà ci sta dentro Però non so se quello è un dato Che varia, no? Che magari invece quando appunto Però è strano Sembra una cosa legata agli effetti Quindi secondo me non cambia niente Proviamo Perché comunque è pessima come cosa Allora Qui siamo entrati Vi devo andare di là Non c'è niente neanche qua Non c'è niente Questa è una stufa Penso Di ceramica Una roba che chissà Quanto sarebbe Quanto costerebbe farla oggi Questa cosa La porta Questa è Miranda Atelier Allora qua possiamo sbloccare Bisogna andare a negozi Facci che le cinque campane risuonino Abbiamo sentito le campane suonare Però anche qua Guarda Anche qua Fa pesante Ultivo Non so Tu vieni qua sopra Per far cosa Per vedere il quadro Dice che dobbiamo fare qualcosa Questa C'è una la Praticamente si accende Poi E noi abbiamo due C'è una cosa anche qui qua Basta colpire una volta Che si liberi Stanno in movimento Ma anche qua Ci sono gli altri Ce n'è una Ok Quattro Quattro Qua forse Quattro Vediamo il quadro Se c'è qualcosa Il quadro si muove Per quello che Per quello che collassa C'è una transizione Quattro 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 Sì Andiamo qua Poi l'ho messo sul tetto Può darsi che adesso Magari scendiamo con l'ascensore Questo Oh Un grimaldello Appa il tesoro E c'è Anja Ok giù allora No Questo è un magazzino S2 S1 Pt Che erano le cucine Scusate Qua Sarebbe c'era rimasta rossa Anche questa Non dovrebbe essere più rossa Perché abbiamo sbloccato la porta Qua 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 Che risulta in rosso Qua l'abbiamo aperta Non ci siamo a mettersi niente Zack Perché tu continua a dimmelo Ma Non è Abbiamo visto tutto Farga da qualche parte Nel castello Ci sia un certo pugnale Dei fiori della morte Si tratta di un cimilo Risalente a Medioevo Rivestito da una mistura Di veleni proveniente Da tutto il continente Ho fabbricato Per uccidere demoni E mostri Sembra un oggetto affascinante Ma nessuno sa Dove si trovi Vabbè Questi Tutti finiscono Negli appunti Oh Ehm Il tuo metà Era il primo Il secondo eh Devo fare il conferma Ma Si ma sono matti eh Matti Ma che macchinoso è Ma che macchinoso è Ma che cos'è Cos'è un bevuti Sai che ce lo dà adesso O perché c'è qualcosa da fare adesso Con l'inventario qui Micoscopio Perché non mi ricordo La torcia Come si fa Accendere Ehm Comandi No Assignazione Tasti Ricarica Guardia Corri Cambio arma Perché di solito La accendo da solo Quindi non so Se si accende Mira Attacca Esamina Carica Guardia Zoom Con l'alt Però Rotella no Voltati rapidamente Con la Q Oh ok Tasto destro Per uscire Comunque qua Non sembra che ci sia nulla Ho detto che Allora Ehm Come che faccio da fidarlo Qui vuol dire che c'è un potenziamento Ma c'è un potenziamento Ma c'è un potenziamento Ma c'è un potenziamento Ma c'è un potenziamento Qui vuol dire che c'è un potenziamento Oh 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 Mario Perché sei queste cose Zack Guardate che stai semi spoilerando Ma perché stai In queste cose O sei Simona Vieni qua perché se cadi lì poi dopo non posso Chiriamo di poter mettere l'espansione E Zack non c'è Oh hai preso il suo posto e basta scrivere Oh no Se no bisogna sparcare il fucile a cecchino In tutto non so se li ammazzi con un colpo Può darsi ma non sono sicuro Vieni qua che se no cadi fuori Cosa che non c'è morto? Cosa che non c'è morto? ok dai l'espansione siamo vicini in testa immagino però il problema è non consumare la vanvera e questa difficoltà qua è ridicola probabilmente ripeto alzerei ieri non è chiaro quando non c'è poi mi ha fatto non c'è non c'è non c'è no c'è non c'è non c'è non c'è Grazie.